Gesù Cristo è qui! Vi presentiamo l'action figure di Gesù! Cammina sulle acque! Sono Gesù, il re degli ebrei! Non è vero, è una menzogna! Stai attento Gesù, è una trappola! Crocifiggetelo! Gesù Cristo! Prendi questo! I pupazzetti di Gesù! Collezionali tutti e tre! Ottieni nuove parti dagli special pack e Gesù vincerà! La lancia del destino! Sono invincibile! Il sacro graal! Vivrò per sempre! L'arca dell'alleanza! I pupazzetti di Gesù Cristo! Avanti! Scagliate la prima pietra! Ma ne esistono anche altre versioni come Gesù benevolo Gesù gigante e parlante Gesù con i pani e con i pesci e, fino ad esaurimento scorte il pupazzetto di Dio onnipotente disponibili fin da subito da nessuna parte perché, figurati se in Italia vendono ste pirlate! Un grazie ad Alex Galluzzo che mi ha segnalato il video e ci vediamo alla prossima pirlata! Ciao!